Ciao a tutti E ovviamente se volete Posterò il deck profile In real Appena lo finirò Mancano poche carte Ora Set Vediamo un po' che gioca lui Mmm porco di un rabbit Ma porca la mia Uh Uh Nooo No no aspetta Sono ancora in tempo Sono ancora in tempo Banish Un altro grafa vai Revere Perché cazzo Ah vabbè Ah sì Vai via Via tutto Nooo Pene che sono Sei un pene La bella Ivi Uh Attenzione Allora Innanzitutto Bene Ed è uno Vai Bottomless Lusso Ivi Aspetta Penso 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 Poi a dare La so Che ha fatto Una cazzata Però Questo è già L'attivato Giusto Ah C'ha la Prisa Un puttano Una Grazie. Pum. Mrs. Macrorabbit. Preso. Non mi importa. Pingate. It's GG. GG, bro. E GG. Tuzuki. Vabbè, ragazzi, questo era il Darkhold contro Macrorabbit. Ripeto, se volete il deck profile commentate, lasciate un mi piace soprattutto, iscrivetevi al canale. E vabbè ragazzi, arrivederci e al prossimo video.